Su tutto il territorio provinciale stanno per essere consegnati i cantieri per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria, finanziati con fondi di varia provenienza. Sono circa 50 i cantieri che partiranno nelle prossime settimane sulle strade del nostro territorio, dichiara il presidente Michele Strianese, per un totale di circa 3 milioni di euro già appaltati, con fondi che provengono da varie tipologie di finanziamento. Innanzitutto la regione assegna alla provincia di Salerno circa 600 mila euro destinati ai lavori su strade regionali ex strade statali, che sono in gestione provinciale. Poi ci sono fondi dell'avanzo di amministrazione 2017, che a seguito di ribassi su gare precedenti possiamo utilizzare per circa 400 mila euro per interventi sulle strade provinciali. Infine ci sono finanziamenti MIT, anno 2018, Ministero Infrastrutture e Trasporti, per un totale complessivo di circa 2 milioni di euro, che ugualmente sono stati destinate di interventi sulle strade provinciali. Si tratta di lavori di manutenzione, di consolidamento, di ripristino e messa in sicurezza di vari tratti stradali. Per tutti questi interventi sono già stati fatti i progetti, espletate le procedure di gare e le aggiudicazioni. Dobbiamo solo consegnare i cantieri che andremo a fare appena il tempo lo permetterà. È bene sottolineare che, in merito ai finanziamenti destinati alle strade regionali ex ANAS, è la prima volta che la Regione Campania assegna fondi alle province per la gestione di queste strade, grazie alla Giunta di Luca. Per questo ringrazio ancora una volta il Presidente della Regione Campania per l'attenzione nei confronti dei nostri territori e ringrazio anche tutto il settore viabilità e trasporti, diretto da Domenico Ranesi e il Consigliere Delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, per il lavoro svolto per le nostre strade. Nello specifico, per quanto riguarda il Cilento, diverse le località che vedranno realizzate suddette opere nelle prossime settimane. Tra queste, i comuni di Agropoli, Monte Corice, Centola, Montano Antiglia, Futani, Centola Camerota, Buccino, Ascia Ceraso, Capaccio Pestum, Camerota Ceraso Sapri, Policastro Santa Marina, Rocca d'Aspide, Muoio della Civitella, Gioi Stio, Sarufo Teggiano, Montano Antiglia, Battiemarco, Perito, Morigerati Fibbonati e Oliveto Citra.